Per me i primi guadagni non servono tanto, per me non è sinceramente, se io dovessi essere seduto lì e non avessi ancora fatto operazione, per me non sarebbe importante guadagnare dalla prima operazione, non è quella per me la cosa importante. E lo so che sembra stupido, capite? E allora che cazzo lo fai? No, no, per me la cosa importante, fondamentale, è sbloccarmi. Porca troia, perché se io mi sblocco, allora sì che comincio a giocare con le sfide. Quando voi vi sbloccate e fate la prima operazione, vi rendete conto che si può fare, allora lì diventa un altro sport. E allora lì cominciate a scalare, perché lì vuol dire che avete capito come fare questo giochino. Ok? Quindi questa cosa è molto interessante.